Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, oggi abbiamo tantissimi importanti aggiornamenti dagli Stati Uniti. Avremo l'opportunità di anticiparvi l'ordine esecutivo presidenziale che Trump ha intenzione di emanare nei prossimi giorni contro gli interessi economici cinesi e del Deep State. Prenderemo spunto da alcuni aspetti legali per fare qualche riflessione utile anche in casa nostra e al contempo pondereremo il punto debole di Trump oltre che i suoi punti di forza, così come considereremo il ruolo determinante che hanno i media mainstream nel ridurre il livello di democrazia in tutto il mondo. Partiamo proprio da quest'ultimo argomento. Nonostante vi siano stati parecchi e documentati casi di frode nelle elezioni americane del 3 novembre, i media continuano a sostenere che Biden abbia ottenuto il voto di oltre 80 milioni di elettori, risultando addirittura il candidato alle presidenziali più votato di tutti i tempi. Dicono anche che queste elezioni sono state le più veritiere della storia americana. Per esempio, venerdì è stato rilasciato il video in cinese mandarino di una telefonata dove venivano richieste schede false personalizzate ad una fabbrica cinese. Secondo quanto riferito, il produttore si trova a Quantung, in Cina. Nel video che vedete si sente una persona richiedere un grosso ordine di schede elettorali false, ben 5 milioni da spedire negli Stati Uniti. Ad un certo punto si può vedere la scritta Charlotte County, Florida, sulle schede. Secondo varie fonti, i voti per il solo Biden sono comparsi ovunque nella notte delle elezioni allo scopo di falsare l'esito elettorale in quello che appare essere uno sforzo coordinato. La Georgia e il Michigan sono solo due esempi. La scorsa settimana abbiamo visto come i democratici abbiano inserito decine di migliaia di voti per il solo Biden nei registri degli elettori in Georgia. Purtroppo, dei tantissimi casi di brogli elettorali, di postini che buttano o bruciano le schede a favore di Biden, il mainstream non ne parla e se lo fa, lo fa con l'intento di smentire o ridicolizzare la cosa. Anche questo è un modo per derubare i popoli della democrazia. E a quanto pare la cosa è accaduta anche in Italia. Almeno questo è quello che afferma il colonnello dell'esercito americano in pensione, Phil Waldron, riferendosi probabilmente alle europee del 2014 in cui Renzi, il novello Biden, prese il 40% dei voti. La dichiarazione sotto giuramento all'audizione del Grand Old Party in Arizona è avvenuta il 30 novembre, nel silenzio totale del mainstream italiano, durante il processo alla frode elettorale presunta ai danni di Donald Trump. Il giudice ha chiesto al colonnello Waldron, che è sotto giuramento, ricordiamo, questa società, Smartmatic, ha radici in Venezuela, giusto? Sì, signore, risponde Waldron. Ugo Chavez è uno dei fondatori, ha investito circa il 28% dei finanziamenti iniziali per la creazione del sistema elettorale HCO. A questo punto il giudice chiede al colonnello. E sono stati coinvolti in diverse elezioni del Sud America che sono state dichiarate falsificate? Sì, in Argentina, Bolivia, Singapore, Venezuela e Italia. E la risposta di Waldron. Il colonnello Phil Waldron, interrogato nella stessa udienza da un legale di Trump, ha la domanda «quindi tu sei disposto a dire sotto giuramento che hai visto le connessioni a internet? Tu le hai viste andare all'estero, in Germania, a forte? Sono queste cose che hai visto personalmente e puoi affermare che è vero?» Il colonnello conferma. I nostri hacker dei cappelli bianchi, sì, loro, hanno questo, il traffico e i packets, i pacchetti di dati informatici. In altre parole, gli hacker dai cappelli bianchi hanno il traffico i pacchetti informatici delle macchine per il voto Dominion e che le stesse erano collegate via internet in Germania a Francoforte. E il colonnello sarebbe quindi un terzo personaggio attendibile che confermerebbe che in Germania, alla fine di novembre, qualcosa è successo e che ora tutti i dati informatici delle macchine di Dominion sono in mani sicure. Waldron ha anche affermato che il fatto che le macchine fossero collegate a internet rappresentava un grave rischio per la sicurezza. Ricorderete, come abbiamo detto recentemente, che un portavoce di Dominion Voting System aveva negato in un'intervista alla Fox che i suoi sistemi fossero collegati al web, dichiarando non è possibile trasferire i voti dal presidente Donald Trump a Joe Biden perché il sistema non è collegato ad internet. Ma il colonnello Waldron ha assolutamente smentito le affermazioni di Dominion. Waldron ha affermato che le macchine per il voto di Dominion sono vulnerabili agli hacker o alla manipolazione in loco. Secondo il colonnello, un funzionario della Contea di Marikova, ha detto che la Contea non ha convalidato le firme su molte schede creando una potenziale frode da 1,9 milioni di voti. Sempre secondo il colonnello Phil Waldron, i cappelli bianchi custodiscono le prove della frode orchestrata contro Trump e si pensa abbiano intenzione di tirarle fuori fra pochi giorni. Passiamo ora ad alcune considerazioni legali che vengono dal raffronto con un'altra elezione contestata negli Stati Uniti, quella del 2000. La battaglia per la Casa Bianca ormai è evidente a tutti, si vince o si perde in tribunale. E a proposito è interessante andare a fare un confronto con i due team legali, cioè quello di Trump, guidato da Rudy Giuliani, e quello di George W. Bush, presieduto allora dall'iperpreparato James Baker III. Nella sua biografia The Man Who Run Washington, subito all'inizio del libro, possiamo leggere 45 minuti dopo essere stato informato sulla situazione quella mattina dell'8 novembre, quando il vantaggio di Bush in Florida era pari a 1784 voti su quasi 3 milioni di voti e prima ancora che avesse avuto luogo un riconteggio automatico, Baker ha detto ad altri, stiamo andando alla Corte Suprema. Quando hanno espresso stupore, Baker ha proseguito dicendo «è l'unico modo in cui può finire». La cume di Baker qui era sbalorditivo. In questa fase, e anche più tardi nella saga della legge elettorale e degli esperti della Corte Suprema, tutti erano molto scettici sul fatto che la Corte sarebbe stata coinvolta. La prima scelta di Baker per guidare il contenzioso, l'ex senatore John Dalford del Missouri, rifletteva questa visione comune. Dalford ha detto a Baker «non riesco proprio a concepire che un tribunale federale prenderà la giurisdizione su una questione relativa alla legge sulle elezioni statali. Non posso crederci». Dalford ha comunque accettato di assumere il ruolo, ma Baker ha deciso che Dalford non credeva abbastanza nella causa. Lo lasciò andare e si rivolse invece a un ex avvocato di alto livello dell'amministrazione Reagan, Ted Olson, che alla fine portò alla vittoria Bush contro Gore. E questo episodio è molto significativo, non solo per la contesa elettorale Trump-Biden, ma anche ci fa riflettere su quanto sia importante in una causa partire con un team legale preparato e convinto immediatamente della strategia da attuare. Vedete, grazie ai vostri commenti e ai video che in sostanza si domandavano «ma come mai se il governo sta violando la Costituzione e le leggi con i suoi DPCM, come mai nessuno glielo impedisce?». Domanda legittima, assolutamente legittima. Così negli ultimi mesi mi sono convinto dell'importanza che poteva avere un'azione legale determinata e concreta. Basta chiacchiere. Era il tempo di azioni decise, portate avanti da chi aveva il dono di giungere al punto, senza tanti fronzoli nei giri di parole. Tornando a Trump, ebbene, il suo punto debole, dispiace dirlo, potrebbe essere proprio il team legale facente capo a Giuliani. Come sapete, alcuni avvocati si sono ritirati, forse perché minacciati. Nuove squadre di avvocati si sono presentati all'ultimo minuto. Qualche causa è stata così persa? E viene naturale il confronto con la manoferma di Baker nel sapere come strutturare efficaci strategie legali. Non solo ha riunito rapidamente gli avvocati conservatori più talentuosi del paese, ma, ad esempio, ha assegnato diverse squadre di avvocati al Tribunale statale e federale per consentire una maggiore specializzazione. Pensate, la nuova biografia di Baker afferma che, quando Baker è stato incaricato, la sua reputazione era così formidabile che i democratici sapevano che avevano perso nel momento in cui hanno sentito della sua nomina. Mentre oggi, possiamo dire con certezza, i fatti hanno dimostrato che quello stesso pensiero non ha attraversato la mente di nessun democratico quando Rudy Giuliani è stato incaricato. Questo bisogna ammetterlo in maniera del tutto imparziale. Torniamo ora alle belle notizie, sempre in ambito legale. Leggiamo dal sito Law and Crime. Il giudice della Corte Suprema, Samuel Alito, ha chiesto ai funzionali della Pensilvania di presentare le memorie di risposta in un tentativo fino a fallito del membro del Congresso repubblicano Mike Kelly di capovolgere i risultati delle elezioni del 2020 in Pensilvania. Kelly, fedele e sostenitore di lunga data del Presidente Trump, chiede alla più alta Corte della nazione di occuparsi dello stesso caso elettorale che la Corte Suprema della Pensilvania ha sommariamente rigettato con pregiudizio lo scorso fine settimana. Sebbene Alito originalmente avesse chiesto che gli argomenti di risposta dal Commonwealth venissero presentati entro le 16 mercoledì 9 dicembre, il registro del caso è stato modificato domenica mattina per spostare tale termine a martedì 8 dicembre, entro le 9. Il cambiamento è fondamentale. I membri del Collegio elettorale della Pensilvania si incontreranno a mezzogiorno del 14 dicembre a Erisburg per votare alla Presidenza. Come sottolineano gli argomenti di Kelly, la legge elettorale federale stabilisce una cosiddetta scadenza di approdo sicuro sulle controversie riguardanti la nomina di tutti o di uno qualsiasi degli elettori mediante metodi o procedure giudiziarie o di altro tipo da stabilire almeno 6 giorni prima dell'orario fissato per la riunione degli elettori. La scadenza originale del 9 dicembre di Alito non teneva conto di quella finestra. La nuova scadenza sì. Quindi il fatto che un giudice della Corte Suprema la domenica mattina faccia modificare una data per legittimare la controversia sulle frade elettorali è solamente un buon segno. Riprendiamo la lettura e notiamo altri aspetti positivi. Il fulcro degli argomenti di Kelly è che uno statuto di riforma delle elezioni statali del 2019, noto come atto 77, violava sia la Costituzione dello Stato che la Costituzione federale. Kelly interpreta la Costituzione nel senso che consente solo circostanze limitate che legittimano un elettore a votare per posta. In altre parole, dal punto di vista di Kelly, le persone devono votare di persona, a meno che non possano avvantaggiarsi di poche e limitate scuse contenute nella Costituzione dello Stato. E pertanto l'atto 77 e le relative leggi sull'accesso alle elezioni devono essere cancellati come non validi. Poiché le elezioni del 2020 sono state condotte ai sensi della legge 77, i risultati sono discutibili, afferma Kelly. Passiamo ora allo scoop di politico. Leggiamo alcuni passaggi e poi faremo delle considerazioni. La Casa Bianca redige un ordine esecutivo che potrebbe limitare le società globali di cloud computing. Nel tentativo di prevenire gli attacchi informatici, il Dipartimento del Commercio potrebbe imporre restrizioni alle società cloud statunitensi che operano all'estero, inclusa la Cina. L'amministrazione Trump sta valutando un ordine esecutivo che consente al governo di limitare le operazioni internazionali delle società di cloud computing statunitensi come Amazon e Microsoft, nel tentativo di proteggere dagli attacchi informatici stranieri. L'ordine esecutivo consentirebbe al Dipartimento del Commercio di vietare ai fornitori di cloud statunitensi di collaborare con società di cloud straniere che offrono un rifugio sicuro agli hacker e darebbe al segretario del Commercio la possibilità di vietare a quei fornitori stranieri di operare negli Stati Uniti. Hanno detto quattro persone a politico. Secondo tre persone che hanno familiarità con l'ordine, il progetto di ordinanza è progettato per dissuadere gli attori stranieri malintenzionati dall'utilizzare fornitori di servizi cloud per condurre attacchi informatici in modo rapido e anonimo. Tutti hanno parlato in forma anonima perché l'ordine non è ancora stato finalizzato. Darebbe anche agli Stati Uniti un altro meccanismo per mantenere la pressione sulla Cina. Gli altri funzionari dell'agenzia si sono incontrati per discutere l'ordine giovedì e mirano ad averlo sulla scrivania di Trump prima della fine dell'anno. Ha confermato un funzionario statunitense una tempistica veramente aggressiva. L'ordine potrebbe preoccupare le aziende tecnologiche. Le aziende tecnologiche statunitensi temono che l'ordine esecutivo proposto, se applicato in modo ampio, potrebbe dare al governo un nuovo potere di interferire nelle sue transazioni commerciali all'estero e complicare le sue relazioni con molti governi stranieri. L'ordine esecutivo, se dovesse avverarsi, potrebbe creare problemi per le aziende con attività esistenti in Cina. L'amministrazione Trump ha individuato le principali aziende tecnologiche cinesi e ha reso più difficile per le aziende tecnologiche statunitensi esportare loro attrezzature. Terminiamo la lettura dei punti salienti di questo articolo con una considerazione. Secondo voi, è un presidente sconfitto quello che negli ultimi giorni del suo mandato, secondo il mainstream, si preoccupa di sferrare duri colpi agli interessi cinesi e alle aziende tecnologiche del Deep State? O è invece come un leone ferito che trova la forza di vincere la battaglia. Prima di concludere volevo ringraziare la Chiani Life di Ferrari Massimo che in collaborazione con la H-Price porta in Italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto e del dottor Wilhelm Reich, l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di H2O e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua. La Chiani Life, quando ha saputo che YouTube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati, ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate la libera informazione a tutela del popolo. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale per aiutarci a crescere può contattarci tramite l'email in descrizione. Grazie del vostro sostegno e per la condivisione dei video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby!